Musica Musica Praticamente oggi stiamo promuovendo questi monopattini a noleggio, sì, sono per tutta Modena, sono a 15 centesimi al minuto e basta scaricare una semplice app, registrarsi e praticamente sono a disposizione per tutta Modena Ecco, uno che cosa deve fare per noleggiarlo e dove li può noleggiarlo? Praticamente tramite questa app che si chiama Togo, la scarica, registra i dati e da lì praticamente c'è il profilo dove si vedono tutte le postazioni dove vengono lasciate, caricate e da lì praticamente le può noleggiare direttamente con l'app Musica Praticamente tramite carta di credito, nel momento in cui si scarica l'app e la carta di credito va registrata Ovvio è molto comodo, va a 25 km orari e è divertentissimo Musica 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 Musica